Quanto è importante per chi fa il mestiere dell'attore avere dei maestri, dei professori, degli insegnanti? Eh, vado io, eh! Ma è importantissimo perché è un mestiere. E quindi come succede quando apprendi un mestiere e vai a bottega per scoprirne i segreti, i trucchi, eccetera, hai bisogno di riferimenti. Poi è un mestiere che vive dell'occhio esterno che ti guarda. Quindi una guida, almeno questa è la mia esperienza, è proprio necessaria. Poi i maestri sono sia quelli che trovi per strada che ti insegnano fattivamente, sia quelli che ti dai come dei riferimenti. O quelli che ricordi, no? Come dei riferimenti anche in un'epoca in cui non pensavi di fare l'attore. Il signore che mi sta seduto accanto, per esempio, in un'epoca in cui io non pensavo affatto di fare questo mestiere ed ero bambino, per me è stato più che un riferimento, insomma. È stato protagonista di svariati miei pomeriggi guardando la televisione da bambino e poi vabbè, l'ho adorato come regista e come attore guardando tutto quanto quello che ha fatto. Quindi è fondamentale averne. Sia quando li incontri e ti insegnano, sia quando poi li incontri, quando ormai già lo fai questo mestiere. A me è capitato con Maurizio. Io penso che, aggiungendo qualcosa a quello che lui ha detto e che sottoscrivo, oltre che maestri bisogna incontrare delle passioni, bisogna incontrare della gente appassionata di quello che fa e che sa trasmetterti questa passione. In fondo il film parla anche di questo. Sono sì i sette professori peggiori d'Italia, ma hanno una gran voglia di insegnare. Ha voglia lui, che non è riuscito a avere una cattedra, però avrebbe fatto volentierissimo questo mestiere. Ha voglia Fanful, il professore di chimica, che anche se gli va male sempre tutto ed esplode in continuazione, però è un appassionato del suo lavoro. Tant'è vero che quando in certi momenti del film c'è bisogno di chi si offra a fare certe cose, lui è il primo. Ecco, questa passione è quella che mi porta ancora qui a fare l'attore, a fare una cosa che non facevo da tanto tempo e come mai sono tornato a lavorare con un altro regista? Perché ho trovato un regista che ha avuto passione per questa storia. Una storia che si rifà un fumetto, quindi avere il coraggio di fare un film fuori dal coro, come non se ne vedono tanti in Italia, anche qui ci vuole passione. E qui allora Gianandrea Pecorelli, che è il produttore, ha avuto passione e ha creduto in una storia curiosa per il mercato italiano. E che il film sia tratto da un fumetto, si vede, a parte dallo stile, anche dal modo in cui voi recitate. Io ho pensato anche ai cartoni animati, quando ho visto il professor Fanfulla, queste esplosioni, insomma è molto bello, divertente. Ecco, che soddisfazione ti ha dato anche fare un personaggio, e per cui ci vuole anche tanta comicità fisica, che poi è un linguaggio che tu parli benissimo. Allora, guarda, il mio mestiere mi piace, lo faccio sempre quando posso, con grande positività, sempre con grande ottimismo. Però la maggiore soddisfazione l'ho avuta, ti può sembrare strano, stamattina facendo la conferenza stampa. Perché vedere tutto il cast che è stato contento di aver fatto questo film, al di là della facciata, al di là di quello che dobbiamo dire davanti alle telecamere, siamo veramente diventati amici e tutti ci siamo stimati e ci siamo divertiti a fare questo film. Ma soprattutto sentire dalle persone fare dei discorsi seri sulla scuola, sul rapporto professori-allievi, sul rapporto genitori-professori. Cioè, è incredibile. Noi abbiamo fatto un film comico, un film per far ridere. Quando la gente ieri sera lo vedeva, per la prima volta l'abbiamo visto col pubblico, ridevano ininterrottamente per un'ora e mezza in continuazione. E oggi la conferenza stampa è una delle più serie conferenze stampa a cui ho partecipato. Un convegno sulla scuola. E allora questo mi ha dato una soddisfazione, perché è quello che io sostengo sempre, che solo le persone serie possono fare bene i film comici. I film comici con la C maiuscola, non i comici che poi dopo si buttano via con delle cose facili. Lilo, che piacere ti dà l'insegnamento, perché tu insegni anche. Sì, 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 io lo faccio da tanti anni. Vengo da una famiglia in cui mia mamma è insegnante, era. Adesso è in pensione, ma era un continuo stare a scuola. Anche quando era a casa c'avevo la maestra in casa. Io ho scoperto, diciamo, ma ben presto, facevo l'attore professionalmente ormai da solo 3-4 anni, che insegnare doveva essere una parte del mio processo di apprendimento. Cioè, secondo me, tu una cosa la capisci veramente bene quando la spieghi a qualcun altro. Quindi in realtà, se saturo il mio tempo di incontri nelle scuole, laboratori, lezioni spettacolo, all'università anche, ne faccio, insegno agli insegnanti a leggere meglio in classe. È perché credo uno che così si creino gli spettatori del futuro. Perché l'unico modo per riportare la gente a teatro non è il nome di cartellone, quello è sporatico. È ricostruire un rapporto, è ricostruire un linguaggio comune. E questo lo fai soltanto utilizzando la scuola e mettendola in partnership con i teatri. E poi lo faccio perché non ho bisogno io, perché imparo, imparo facendolo. Questo film per me è stato, e lo dicevo oggi, l'occasione per prendermi anche un po' in giro, strammatizzare questo che è un aspetto così importante del mio modo di fare questo mestiere. Perché c'è un colono, in qualche modo, ha probabilmente la stessa passione per l'insegnamento che ho io, ma è l'altra faccia della medaglia, è quasi il lato oscuro di questa passione. Quindi è stato estremamente divertente farlo, perché la scuola è un mondo che conosco e conosco soprattutto questo. Funzionano gli insegnanti che ci mettono entusiasmo, anche quando sono paradossali come questi. Ovviamente quando si parla di scuola si pensa a quello che sta succedendo con il bullismo ultimamente. Certo, quando andavate a scuola voi, quando andavamo a scuola noi, c'era il compagno dispettoso, c'erano degli episodi di bullismo, però qui si va oltre. Che cosa si è rotto? Perché si è arrivati, secondo voi, alla situazione di oggi? Vedi come si finisce a parlare seriamente di un film che fa ridere. Cioè noi abbiamo fatto un film per divertire. Allora è meglio sempre ripeterlo, perché dopo quando si fanno i discorsi seri diventa difficile. Noi non siamo né filosofi né gente che ha approfondito questo argomento. Siamo padri, siamo figli, siamo stati studenti, conosciamo tanti professori. La scuola è sempre stata una palestra di vita, perché non si chiamava bullismo, ma tu qualche prepotente lo trovavi, qualcuno che ti faceva un dispetto lo trovavi. Non si finiva sul giornale, non si finiva su Facebook, non ti filmavano e facevano vedere quello che facevano. Però, insomma, uno si abituava a scuola a vivere con gli altri. È tutto vero. Noi abbiamo voluto parlare di questo ambiente in maniera paradossale. Il film è tratto da un fumetto francese, per cui nelle strisce del fumetto questa voglia di divertirsi e voglia di essere paradossali è ancora maggiore. Però il fatto che la scuola sia un problema serio, il rapporto tra genitori, professori e figli e studenti, quindi questo triangolo debba tornare a essere virtuoso, è un obbligo. E allora se questo film, dopo aver fatto ridere per un'ora e mezza, farà anche ridialogare i genitori con i professori, i professori con gli studenti, gli studenti con i genitori, avrà ottenuto un risultato. Perché prima deve far ridere e poi dopo però apre una discussione. Sì, fondamentalmente è questo quello che è successo, cioè che si è infranto un po' un tabù, nel senso che finché l'Italia è stato un paese in cui c'erano grandi spereguazioni a livello di istruzione, l'insegnante era comunque vissuto come una figura di riferimento. Che a me il genitore insegnava un po' a educare mio figlio e aveva legittimato aiutarmi a educare mio figlio. Oggi invece non è più così, ci si sente in diritto, anzi in dovere, di chiarire subito con l'insegnante che il figlio è mio, capisco io che cosa fare con lui e ha ragione mio figlio rispetto a te che sei pagato poco e male, fai questo mestiere perché non sei riuscito a fare altro nella vita. Cioè abbiamo un problema di riconoscimento dello status dell'educatore. E questo però lo si risolve, credo, soltanto in un modo, cioè tornando a investire seriamente nella scuola, soprattutto quella pubblica, perché così ne cresce la considerazione da parte della gente, delle famiglie e ne beneficiano anche i professori che a quel punto possono fare meglio il loro mestiere. La scommessa di questo film è di spezzare una lancia a favore dei professori con i sette peggiori professori d'Italia. Questo è il motivo per cui a me è piaciuto accettare questo film. Sono i pessimi sette, i magnifici, i peggiori sette. I peggiori sette servono a parlare bene dei professori. Ecco, questa è la scommessa del film.